Eventi pubblici di sensibilizzazione, anche proteste dinanzi al Comune per contrastare il disegno di legge sull'autonomia differenziata definito dalle opposizioni in Comune, Spacca Italia. È quanto hanno annunciato oggi le minoranze, dopo la bocciatura in Consiglio Comunale, dell'ordine del giorno presentato da loro per contrastare appunto il disegno di legge Calderoli, un consiglio al quale erano stati invitati i rappresentanti politici bipartisan, la Regione, le associazioni e i sindacati. Le assenze però per le opposizioni sono state pesanti e chi è intervenuto ha evidenziato solo i grandi danni che il disegno provocherebbe sul territorio. Non si molleranno, detto i presenti, ora si sta capendo quando si discuterà il decreto alla Camera e alla luce delle dichiarazioni italiane, ha detto la Pezzopane, che è stato molto prudente, ci saremmo aspettati la stessa cosa in Consiglio dai rappresentanti del centrodestra. La battaglia non si ferma e intendiamo, in vista del dibattito alla Camera, promuovere iniziative sia di riflessione culturale ma anche di protesta davanti al Comune perché noi riteniamo che il Comune abbia voce in capitolo e non possa accettare pedissequamente un dibattito parlamentare che va a danneggiare il Paese in generale, il Sud, l'Abruzzo, l'Aquila e le aree interne. In altri tempi c'era una classe dirigente che quando vedeva che il governo, anche del proprio colore politico, non faceva le cose buone, andava lì a protestare. Oggi invece nemmeno si sono presentati al Consiglio Comunale per mettere una sorta di sordina in maniera tale che la città non si accorga di quello che sta accadendo. Noi non lo consentiremo questo, chiamiamo in causa una classe politica assente nei momenti di dibattito di fondo importanti per il futuro del territorio. Voi comunque l'ordine del giorno lo avete già inviato a tutti anche ai piani alti? Assolutamente sì, noi lo abbiamo inviato a tutti perché comunque è un ordine del giorno che, voglio aprire una parentesi, in altri comuni del sud è stato approvato all'unanimità.